Cari figli, sono qui in mezzo a voi per incoraggiarvi, per riempirmi col mio amore, per invitarvi nuovamente di essere miei testimoni dell'amore di mio figlio, per essere testimoni dell'amore di mio figlio. Molti miei figli non hanno speranza, non hanno pace e non hanno amore. Loro cercano mio figlio, ma non sanno come e dove trovarlo. Mio figlio li apre le sue braccia e voi aiutateli affinché vengano nel suo braccio. Fili miei, perciò dovete pregare per l'amore. Dovete pregare molto, molto, per avere sempre più amore. Perché amore vince la morte e fa in modo che la vita duri. Apostoli del mio amore, vini miei, di un cuore sincero e semplice. Unitevi sempre più nella preghiera, ma quanto lontani uni dagli altri siete. Unitevi, incoraggiate gli uni agli altri nella crescita spirituale, come anche io vi incoraggio. Io vedo su di voi e sono accanto a voi ogni qualvolta quando pensate a me. Pregate per i vostri pastori, per coloro che hanno rinunciato a tutto per mio figlio, per voi. Amateli e pregate per loro. Padre celeste ascolta le vostre preghiere. Vi ringrazio. La Madonna ha benedetto tutti noi presenti e tutti oggetti portati da noi che adesso saranno benedetti dai sacerdoti presenti qua.